Ma da dove nasce l'idea dell'Istituto Serio? Una struttura gigantesca sparsa per Overworld, Nether e in un futuro molto vicino anche End. L'idea di costruire una struttura interdimensionale deriva da Control, videogioco che mi ha affascinato come pochissimi altri, ed è proprio quell'ambientazione, la Oldest House, che mi ha fatto venire l'idea di costruire questa struttura. La Oldest House, una struttura che esiste al di fuori dell'universo stesso, su cui le leggi del tempo e dello spazio sono completamente ininfluenti e che forse è addirittura viva. Una struttura che può essere trovata solo se la cerchi e solo se sai dove cercarla. Un luogo che ha punti d'accesso da praticamente qualunque parte del mondo, anche se non sono ancora stati scoperti. Ed è proprio a questo concetto che mi sono ispirato per costruire il nostro Istituto Serio, che per ora è soltanto un magazzino, ma che in futuro sarà molto, molto di più, permettendoci di tenere collegate tutte le zone del nostro mondo.